Mi ritengo pienamente sorrisfatta del grande lavoro svolto dell'amministrazione Cristaldi. È il terzo anno consecutivo che facciamo consegna degli arredi scolastici presso le scuole di competenza comunale. Mi ritrovo al quarto circolo didattico di Giovanni Battista Belli con il preside nobile e abbiamo avuto proprio modo di dare loro, di fare consegna di questo arredo per dare ancora di più un'immagine decorosa della scuola e a creare un ambiente più confortevole a tutti gli alunni. Buongiorno, io colgo l'occasione per ringraziare tutta l'amministrazione perché l'ho trovata sempre collaborativa per le problematiche della scuola. Anche in questa occasione stanno arrivando tante sedie, tanti banchi che ci serviranno a rendere più confortevole l'ambiente scolastico. Quindi ringrazio ancora una volta l'assessore e tutta l'amministrazione.